Ottima performance per l'Università degli Studi del Sannio, il cui tasso di occupazione dei laureati di secondo livello del 2015, intervistati a 5 anni dal conseguimento del titolo, è pari all'84,9%. Le retribuzioni in media sono di 1.546 euro mensili netti contro i 1.471 dei colleghi campani, un dato che emerge dal 23esimo rapporto su profilo e condizioni occupazionale dei laureati. Lo studio del Consorzio Alma Laurea ha coinvolto 76 università, 794 i laureati dell'Ateneo San Nita coinvolti nel sondaggio. Il 92,7% degli interessati si è detto soddisfatto del rapporto con il corpo docente e l'86,2% ritiene il carico di studio adeguato alla durata del corso. In merito invece alle infrastrutture messe a disposizione dall'Ateneo, il 69,4% dei laureati che le ha utilizzate considera le aule adeguate, più in generale il 92,1% dei laureati si dichiara soddisfatto dell'esperienza universitaria nel suo complesso. Chi mi conosce sa che non amo le classifiche se non quando si parla di sport e men che meno le amo quando si parla di università, perché le università, tutte le università svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di occasioni di crescita per i nostri giovani e di sviluppo per i territori. In questo caso però si tratta di dati diversi perché sono dati oggettivi come quelli relativi ai livelli di occupazione e di reddito o di dati che vengono raccolti direttamente dai protagonisti, dagli studenti che hanno attraversato i nostri corsi di laurea. I dati pubblicati da Alma Laurea sono molto positivi per il nostro Ateneo perché da un lato dimostrano un elevato livello di soddisfazione per tutti gli studenti che hanno conseguito il loro titolo di studio presso il nostro Ateneo e dall'altro, grazie ai livelli di occupazione e di reddito elevati, dimostrano come questi studenti oggi sono professionisti preparati e consapevoli che raccolgono successo sul mercato del lavoro. Tutto questo è il risultato del nostro modello di università a misura di studente, un'università piccola, un'università di qualità, un'università che tende alla creazione di un rapporto diretto, franco, aperto fra studenti e docenti. Ovviamente andremo avanti sulla strada del miglioramento, ci sono aree in cui sicuramente possiamo e vogliamo fare di più, una di queste è l'area delle strutture, i dati di Alma Laurea ci dimostrano come questo sia un po' il nostro punto debole, però anche su questo se avete attraversato la città di Benevento nelle ultime settimane, negli ultimi mesi avrete notato come l'università del Stagno sta facendo un investimento importante per svecchiare, riqualificare, rendere più belle e più funzionali una serie di palazzi storici da mettere a disposizione delle attività di didattica, di ricerca del nostro Ateneo.